si racconta in un libro che in una tribù primitiva alle donne venivano fatte crudeli torture e la barbara usanza era nata perché si credeva che la donna umiliata ed offesa piacesse di più ogni donna portava nascosto un diabolico oggetto ben legato alla schiena ed appeso davanti sul collo le toglieva il respiro e schiacciava il suo povero petto perché pare che all'uomo di allora piacesse così hai presente regipetto praticamente uguale e chissà per quale altra lontana inspiegata ragione per la strada andavano storte col corpo in avanti perché avevano scarpe speciali con sotto il tallone un gradino di otto centimetri e anche di più hai presente i tacchi praticamente uguali torpidio